Musica Buonasera e ben ritrovati a tutti i nostri telespettatori di Provincia TV al primo appuntamento della settimana con Newsroom. Ci eravamo lasciati la settimana scorsa parlando di cultura, spettacolo, con la compagnia teatrale Avanzi di Scena e con la rappresentante di Semi di Pace di Tarquinia e ci ritroviamo ad inizio settimana a parlare ancora di spettacolo con Enrico Falconi di Blue in the Face. Buonasera. Buonasera. Parcondicio invitiamo un po' tutti. Tra l'altro Blue in the Face in questo periodo ha fatto tanto parlare di sé, soprattutto per uno degli ultimi progetti finanziati addirittura a livello europeo, Terre da Mare. Iniziamo proprio da quest'ultimo tema per poi andare indietro e cercare di vedere com'è nata Blue in the Face e quanta strada ha fatto fino ad oggi. Allora, cominciamo da Terre da Mare. Terre da Mare è il primo progetto presentato da un'associazione del nord del Lazio, possiamo dire, dietro a Civilecchia, Santa Manella, Ladispo, lì fino a Tarquinia, che si aggiudica un bando della comunità europea. Sarà fatto a Santa Marinella nel mese di giugno, i primi di giugno, Terre da Mare. Ci piaceva questo nome, innanzitutto il tema del mare perché rivendichiamo in questa zona insomma una centralità del Mediterranea, no? E che potesse essere quindi uno scambio culturale con vari paesi dell'Unione Europea. quindi avremo una compagnia teatrale che ci raggiungerà da Liverpool, una che verrà dalla Spagna, ma non è soltanto teatro perché è teatro, è cinema, è fotografia, è pittura. Pensiamo anche a scrittura, quindi stiamo cercando di allargarlo il più possibile, quindi dare più gusti in questa terra da amare perché rivendichiamo la centralità di questa terra all'interno dell'Unione Europea e allo stesso tempo della cultura come punto di bellezza irrinunciabile per migliorare. A volte ci si dimentica proprio delle bellezze nostrane tra Civitavecchia, Tarquinia, Santa Marinella, addirittura fino ad arrivare a Cerveteri, città etrusche per eccellenza che avrebbero tanto da offrire anche ai vari turisti, però poi a volte in un modo o nell'altro l'attenzione si concentra su altri argomenti. Assolutamente, questo è un problema forse più grande di questa zona, forse è un problema italiano. sicuramente turismo e cultura potrebbero dialogare sempre di più per prendere anche persone da fuori Italia per fargli vedere questi posti che sono assolutamente meravigliosi. Noi ci proviamo adesso a giugno, un primo passo importante lo abbiamo fatto perché comunque sia un progetto difficile, complicato, sono pagine e pagine di progetto d'età, poi l'Unione Europea insomma ti chiede tantissime cose. È stato un bello sforzo però ci siamo riusciti, adesso ci stiamo rimboccando le maniche per fare dieci giorni veramente di cultura, belli. Peraltro come far coincidere tutto? Danza, spettacolo, teatrale, pittura, scrittura? Si parlava addirittura di scrittura? Beh, ci sono, diciamo che Blu in the Face è l'associazione principe della manifestazione, però ci avvarremo anche di altre associazioni del luogo, locali, che ci daranno una mano, ognuno nella sua specifica. Blu in the Face per quanto riguarda teatro e cinema ha le sue caratteristiche insomma di nascita. Poi altre associazioni del territorio ci daranno una mano per le altre forme artistiche che vogliamo immettere in questo festival. Tra l'altro proprio Blu in the Face questa sera alle 6 era presente all'aula Pucci per la cerimonia della polizia locale, quindi anche qui sempre presente. Sul territorio siamo molto presenti, questo mi fa molto piacere perché ci riconoscono un ruolo importante nella città di Civitavecchia. Noi nasciamo a Civitavecchia, poi nel tempo ci siamo allargati da due anni a questa parte, siamo su Roma, è un primo esempio di un'associazione che nasce a Civitavecchia, quindi alla provincia di Roma e poi va a Roma, quindi solitamente si delocalizzano le situazioni, noi invece siamo andati forti dell'esperienza di Civitavecchia sulla città di Roma. Come avete avuto modo di far nascere l'associazione? Una mattina che siete svegliati. L'associazione nasce, è un'associazione vecchia perché comunque c'ha 12 anni, 13, nasce all'interno di un laboratorio del liceo scientifico Galileo Galileo di Civitavecchia, da qui ci siamo uniti e abbiamo costituito l'associazione. Nel tempo ci siamo, oltre a voler essere compagnia teatrale, siamo diventati un teatro, io lo dico, noi siamo il teatro nuovo Salagasman, è la cosa che ci fa proprio felici perché non è una semplice compagnia, l'intelligenza di Blue in the Face è stata quella di riuscire a trasformare, a diventare altro e a rappresentare per Civitavecchia un altro spazio importante per la fruizione della cultura. Quindi insieme al Traiano, insieme al Buonarroti che da poco ho riaperto, il nuovo Salagasman da sette anni fa stagione e riusciva a prendere spettacoli che arrivano da tutta Italia, sempre più importanti, questa sera abbiamo Milena Miconi per ipotesi con Beate Noi, ma una stagione ricca e intensa, un bel modo per far crescere quindi i nostri associati. Da qui poi negli ultimi anni siamo diventati produttori e distributori teatrali, quindi abbiamo fatto un altro passo in avanti e siamo tra i coproduttori, per esempio del musical Forza Minite Gente che sta girando l'Italia, siamo riusciti a far diventare dei nostri artisti professionisti. Quindi diciamo che il nostro metodo nel tempo era fatto di fatica, di prove sul palco, di grande stress, ma lo dico nel senso più bello del termine, ha poi consentito un metodo che ha riscontrato i favori di professionisti che non ci conoscevano e che adesso non ci rinunciano a noi. Beh, tra l'altro iniziando proprio all'interno di un liceo erano tutti piccoli, giovani, vuol dire che non hanno perso anche la voglia e la passione di portare avanti questo progetto. Assolutamente. E oggi noi abbiamo piccoli blue in the face, perché noi partiamo dai tre anni e arriviamo a fine sessanta. Siamo un gruppo nutritissimo perché veramente siamo votanti. E questo, il fatto di essere tanti e tutti uniti in questo progetto, che è fatto di mille situazioni, dove ognuno poi in queste mille situazioni è coordinatore di un gruppo, di una situazione, di una cosa, ci ha permesso di poter fare più cose simultaneamente, che era poi l'interesse mio iniziale. Una delle cose? Sì, riuscire a essere veloci, riuscire a essere pratici, veloci e a fare cose. Quindi laddove non c'è tempo per parlare, a volte noi, io lo dico, non abbiamo il tempo per festeggiare, perché quello che riusciamo a fare poi subito dopo è vecchio, ma ne facciamo tante, quindi va bene così. Tra i vari progetti che state mettendo in campo proprio in queste settimane, in questi mesi, quali ci sono, a parte i festeggiamenti e alla voce? Sì, 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 noi stiamo portando avanti il nostro cartellone, la nostra stagione, il nuovo Salagasma, che sta andando benissimo. Quest'anno in particolare è eccezionale. Simultaneamente stiamo cogestendo il Teatro UTS di Roma, dove abbiamo portato una stagione teatrale e abbiamo cominciato da adesso con l'Ambra Garbatella di Roma, dove facciamo una didattica teatrale e da qui a poco cominceremo poi a fare la stagione anche all'Ambra Garbatella. Una didattica teatrale significa invogliare le istituzioni? Portiamo accademie di musical, facciamo didattica teatrale in insegnamento del teatro per i bambini fino ad arrivare a cento anni, insomma, vari corsi, varie situazioni, perché stiamo mettendo su la compagna di giovani stabile dell'Ambra Garbatella, quindi è un'altra situazione che stiamo portando avanti. Un festival del cinema, che presumibilmente dovrebbe essere fatto alle terme taurine quest'estate, un bel festival che dovrebbe, insomma, poi magari ne parleremo con più, quando avrò cose da poter dire, sembra, cose più certe, e poi la produzione dei nostri spettacoli. Noi quest'anno fino ad adesso ne abbiamo prodotti sei, ne stiamo producendo altri quattro, tra cui lo Jesus Christ Superstar, che è una produzione nostra interna, che però ha attori che vengono anche da Roma, da un bacino più grande di quello locale. Quindi anche apriamo le porte a chiunque volesse partecipare e venire, non soltanto Civitavecchiesi? No, no, assolutamente sì, sia nella nostra sede di Roma o di Civitavecchia, ma insomma, siamo produzione e distribuzione di eventi, poi il teatro la fa da padrona quella della malattia, scrittura teatrale, c'è un gruppo di scrittori da noi, insomma, di ragazzi che stanno scrivendo e poi noi portiamo in scena le opere che realizzano e le pubblichiamo. Quindi diamo subito delle garanzie di certezza per chi si affida a Blue in the Face, di tante cose importanti, quindi c'è una cura interessante sugli associati, senza mai tralasciare, questo, permettimi di sottolinearlo, un occhio a un aiuto alle associazioni di volontariato del territorio. Noi siamo sempre pronti e lo possono testimoniare tutte le associazioni di volontariato che collaborano con noi a dare una mano e questo per me è il nostro fiore all'occhiello. Una stretta sinergia? Assolutamente sì, con tante associazioni, veramente tante. C'è un bel rapporto che poi diventa di amicizia, che va oltre l'evento da organizzare, la raccolta fondi da portare in atto, ma che diventa amicizia, quindi collaborazione è la cosa forse più bella, perché rimane un sentirsi, uno stare vicini. Una cosa che mi ha colpito, bambini dai tre anni fino ai sessant'anni. Beh, quindi non sono più bambini, non sono più bambini, ovviamente no, un po' più cresciuti, bambini un po' più cresciuti, ma i bambini di tre anni, come si fa a gestire un bambino di tre anni ad insegnargli a recitare e a capire soprattutto se è veramente quello che vuole fare? A volte se arriva a 18 anni non si sa ancora cosa piace e cosa non piace. Allora, con i ragazzi abbiamo tra l'altro 21 classi tramite i POF, quindi siamo inseriti nel... Qual è il nostro ruolo? Il gioco del teatro. Il teatro è fondamentale e di aiuto all'insegnante dell'elementare, in modo stesso della materna, per vedere subito se ci sono, a parte il divertimento, il gioco dello stare insieme e dare subito delle piccole cose sul non perdere l'immaginazione che il bambino la produce, l'autoproduce, levarlo dal televisore, levarlo da questo tipo di educazione, quindi i genitori a volte lavorando sono costretti magari a lasciarli a casa, ecco invece portarli a teatro, ma non tanto in blu-defin, in qualsiasi punto che fa teatro è fondamentale per distogliere il bambino dal televisore. Per cui un po' più grandi noi riusciamo a capire, grazie ai nostri insegnanti, cui molti sono esperti di teatro, ma insieme ci sono pure esperti di formazione e di studio con i ragazzi, a capire se c'è una dislessia, se c'è dal problema di miopia che sembra l'ultima delle cose, però la lettura, il disturbo di un apprendimento, della memoria e alla dislessia che purtroppo esiste, con il teatro è molto più facile evidenziarla e quindi ci si adopera anche per questo. Quindi un aiuto anche a scoprire se il bambino va seguito in un determinato modo anziché in un altro. Assolutamente sì. Ci sono stati degli episodi? Assolutamente sì, degli episodi sono stati e sono stati presi per tempo. Comunque sia, è importante il teatro, a volte si mette sempre, è importantissimo lo sport per un bambino, quello è fuori dubbio, però una forma artistica oltre che aumentare la fantasia allo stesso tempo se fatta con attenzione, rimanendo sempre l'idea del gioco perché quello comunque sia fondamentale, aiuta e coadiua l'insegnante e la famiglia anche nello sviluppo intellettuale del ragazzo. I bambinoni di 60 anni invece? I bambini si rimanano, mi menano poi quando... No, no, diciamo degli attori... Sono delle persone che molti magari lo scoprono andando in pensione, quindi avendo più tempo a disposizione, di avere una voglia di, io la chiamo non recitare, di citar due volte perché secondo me è molto più bello perché dice che è recitare? Forse dirlo meglio, quindi dirlo due volte per metterlo un po' più in chiaro e quindi sentono il bisogno di ritrovare quel Peter Pan che comunque sia non è sopito in nessuno di noi è presente, il palco ti dà la possibilità di manifestarlo perché probabilmente in mezzo durante la giornata non lo puoi fare e si ricerca il teatro come valvola di sfogo ed è bellissimo perché male ci si commuove per una poesia, si ride insieme delle cose più stupide se vogliamo ma più pure e la cosa che più mi piace è che a volte dicono ecco questa sera ho passato una serata meravigliosa senza aver fatto nulla, cioè senza dover aver speso per ristoranti, cinema, cose, sono stato qui insieme a tutti quanti e mi sono divertito e ho vissuto e quello è la magia del teatro. E forse questa è la cosa più importante soprattutto quando si pensa a tanti casi anche di cronaca nazionale dove magari chi va in pensione ha tanto tempo a disposizione, non sa come utilizzarlo e si sente solo. Assolutamente, tra l'altro c'è un progetto, adesso mi veniva collegato con l'Hauser di Civitavecchia nel quale vorremmo tentare come Blu in the Face di coinvolgere i meravigliosi associati dell'Hauser in una compagnia teatrale, in una compagnia anche del racconto, ossia per non perdere la nostra memoria storica sentir raccontare episodi del passato e magari poi riviverli in scena. Questo sarebbe un esercizio secondo me molto interessante proprio per la città, uno dei problemi è la memoria storica, è forse un atto dei compiti dell'arte, in particolare del teatro che lo può fare come mezzo espressivo è proprio quello magari del recupero della storia. Io ricordo i ricordi di mio nonno sulla seconda cura mondiale, solo se li custodisco gelosamente in me, ecco perderli significherebbe essere tutti quanti un po' più poveri, certo andare è un po' controcorrente perché la nostra è una società comunque sia consumistica che deve bruciare tutto velocemente, però sono cose che invece servirebbero per capire meglio del futuro. Tra l'altro sarebbe anche molto interessante dare la possibilità a loro di raccontare e di farlo mettere in scena ai giovani in modo tale che dovendo imparare una parte potrebbero allo stesso tempo studiare qualcosa che sul libro di scuola non è presente, oppure io parlo ovviamente da ex all'una magari anche noioso. Assolutamente sì. Quindi lo studio per l'interrogazione, prendo un buon voto per l'interrogazione e poi dimentico. È così, e quindi il citar due volte per dirlo meglio e per dirlo, sarebbe un bellissimo, ci stiamo provando insomma. Fateci sapere se ci riuscite. Assolutamente sì. Verremo sicuramente. Assolutamente sì perché credo sia fondamentale. Dove poi non si sa più chi è nipote e chi è nonno, perché poi diventa una grande famiglia e quello è il teatro. Non ci sono padri o figli, non ci sono maestri o allievi, a un certo punto si è tutti sulla stessa barca e bisogna arrivare il più lontano possibile e quello è il senso della situazione. Per questo mi ricollego sul fatto dei bambini di 60 anni, il teatro annulla il dato anagrafico in maniera totale. C'è soltanto la voglia di mettersi in gioco, di giocare e di dirlo, perché se uno non c'è niente da dire forse è il caso che non salga o che non faccia un quadro, che bisogna dover dire. Cosa ci vuole per coordinare tutta questa gente, tra l'altro anche di età molto diversa l'una dall'altra? Un bellissimo staff, noi siamo una squadra affiodatissima, io sono in rappresentanza di tante persone che giornalmente, quotidianamente hanno messo il Blue in the Face, il Novo Sala Gasman tra i punti cardini della propria attività, perché è un teatro che ti dà tantissimo ed è bello viverlo insieme, è bello creare cose insieme, quindi c'è quella follia piacevole, che penso sia quella che vivete voi qui nello studio televisivo, è lo stare insieme, non c'è orario, non c'è… se sono le tre, sono le tre, che devi fare? È pazienza. Pazienza, anzi meglio, quando sono le tre, che poi si fa quel gruppo che rimane e si parla di tante cose. Sì, quello senza dubbio. Una delle cose però mi chiedo, le compagnie, le associazioni, le compagnie teatrali, soprattutto a livello locale, non possono comunque tenere conto di quei proventi, ho fatto la stessa domanda la settimana scorsa, che magari potrebbe avere una compagnia teatrale che si andrà ad esibire alla scala di Milano. Di che cosa vivono le compagnie locali, soprattutto quando sono così piccole, inserite in un contesto così piccolo, almeno all'inizio? Dello sbigliettamento, del fare gli spettacoli, io parlo della mia esperienza, lo sbigliettamento per noi è stato rinvestire, ogni volta che abbiamo fatto uno spettacolo, non dividere i guadagni, ma rinvestirli. Allora da lì ci siamo dotati del teatro del nuovo Sala Gasman e poi nel tempo sono subentrati dei finanziamenti da parte della provincia, della regione, adesso della comunità europea. Certo non si naviga nell'oro, non c'è una grande attenzione al mondo dell'associazionismo, una grande attenzione, perlomeno con i problemi che ci sono, non vuole essere uno in colpa a nessuno perché sarebbe poco funzionale, sono tanti di quei problemi che probabilmente il problema dell'associazionismo diventa di secondo piano, peccato. Peccato perché forse potrebbe risolvere alcuni di quei problemi. Dostoevsky diceva solo la bellezza ci salverà, forse sarebbe il caso di prenderlo un po' in pratica questa cosa. È difficile anche poi dialogare tra associazione e associazione, però ripeto fa parte della vita associativa, del portare avanti i vari progetti, le varie cose. È bello anche che ci sia un po' di competizione. Infatti questa era una delle domande, la competizione si fa sentire. Ripeto, io non vuole essere, però non ho competizione, nel senso che io faccio il tifo per tutti, veramente non ho interesse. La competizione è con me stesso, tra di noi il nostro problema oggi è fare bene a Civitavecchia e fare bene a Roma e produrre lo spettacolo e far sì che i miei attori riescono a diventare sempre più professionisti, che riescono sempre più a fare cose, che si riesce ad avere spettacoli belli. Il mio problema è che Gianfranco D'Angelo tra due settimane viene da noi e sta bene. E parlare poi con lui del suo escursus teatrale che è enorme, della sua televisione su Drive-In, su Striscia Notizia, quindi perdermi poi in questi discorsi e vedere l'effetto che fa. Quello è la cosa. Un po' di competizione che ci sia è fuori dubbio. Forse aiuta anche a migliorarsi. La competizione è dell'uomo, se non c'è quella non c'è miglioramento, ma penso che capiti in qualsiasi ambienti. In tutti i settori, non soltanto ovviamente... Siamo arrivati prima, abbiamo scritto meglio oppure no. Un'altra cosa, parlavi di cartelloni, avete avviato al teatro Nuova Sala Gasman, ovviamente un cartellone per la stagione. Quanta fatica si fa a contattare chi dovrebbe fare lo spettacolo? Perché spesso non tutti figli attori o comunque le altre compagnie teatrali sono pronte a scendere in campo? Oppure è capitato che magari non essendo conosciuti all'inizio qualche telefono veniva chiuso in faccia? No, questo qui non ci è successo. Per fortuna. Il telefono in faccia non ce l'hanno dato. Si è sparsa la voce su Roma, perché il Nuova Sala Gasman è un teatro che funziona, è un teatro che si riempie. Nel tempo, perché comunque sia nelle nostre stagioni, se ripenso ai primi quattro anni, quattro o cinque anni e alle due ultime stagioni non c'è paragone, non a livello proprio di interpreti che calcolano il palcoscenico del Nuovo Sala Gasman. L'attenzione è stata a migliorare il teatro, a farlo diventare accogliente, che sia per gli artisti di tutto punto. E poi gli artisti sono venuti, lì sono stato bravo, quello non lo devo dire, perché comunque sia comincia con l'andare a Roma, comincia con andare in certi posti, vai a parlare con quel produttore, con quel distributore e cominci un attimino a fare un dialogo, a vedere quello che si può fare. Da lì poi nasce un'amicizia personale con gli artisti e poi succedono cose. È bello così, insomma. Non c'è una ricetta, c'è il grande sacrificio, c'è il grande amore, quello sì. Che differenza potrebbe esserci fra, ovviamente offrite entrambi i spettacoli, da una parte abbiamo il teatro Traiano. Quanto sentite la sua presenza? No, nessuno faccio, ce l'ho nel cuore il Traiano, è un posto meraviglioso. No, è come chi gioca a golf, c'è una mazza per ogni tipo di terreno, perfetto. Allora il Traiano è una mazza, non vuole essere una cosa volgare, però mi rendo conto del gioco. Il Gasman è un'altra arma in questo senso. E qui si gioca insieme, ma più teatri ci sono e più c'è svolgimento, vincolazione, che è una parola bella, della cultura, quindi non può essere. Certo, mi piacerebbe avere i fondi che c'è al Traiano, questo sì, perché noi siamo i salti mortali. Però alla fine le disperzioni... Noi siamo un privato, noi tutto quello se fulmina la lampadina è uno spettacolo in meno, per dire, perché... Oppure bisogna andare a ricomprare la lampadina... Sì, entra tutto nello stesso budget, quindi non abbiamo delle situazioni diversificate, una parte per gli spettacoli teatrali, una parte per la struttura, una parte per gli artisti e produciamo, quindi a differenza del Traiano, un piccola cosa, noi siamo compagnia, siamo otto compagnie dentro il Nuovo Sala Gasman, e comunque sia agiamo su quel teatro. Quindi il Nuovo Sala Gasman lavora tutti i giorni, non c'ha momenti di chiusura. A giugno ci chiede proprio, vi prego, un mese fatemi respirare. A giugno andate in vacanza. A giugno cominciamo per fuori e quindi il Gasman rimane soltanto per prova, ma non fa più spettacolo, perché andiamo all'aperto. Quindi facciamoli riposare, facciamoli provare, diamo un attimo di respiro alla compagnia. E' un attimo che si offende, perché se non ci fai tutti i giorni, poi ogni tanto fa qualche... E' per maloso, è come una donna quando si arriva in ritardato un appuntamento. Bravissima, io dico, è una bellissima donna, che ci devi fare l'amore in continuazione, perché se no si offende. Ricordiamo uno dei prossimi appuntamenti ai nostri telespettatori. La prossima settimana Gianfranco D'Angelo, venerdì e sabato, un spettacolo bellissimo si chiama Io e Roma, c'è Gianfranco con sei musicisti e ripercorre un po' la sua storia, il suo amore con Roma. Ingresso? 10 euro. Noi abbiamo un fisso che è 10 euro per tutti quanti. Per i bambini ci sono dei ridotti, sopra i 60 sono altri ridotti. Varie cose. Bene, spero tantissimo che la compagnia, l'associazione, possa crescere sempre di più, sicuramente ci ritroveremo per parlare di come è andato il cartellone dopo giugno, così vi faccio riposare anche, e parleremo poi di come è andato anche Terre da Mare. Terre da Mare e parliamo dell'estate. E parliamo dell'estate. Che già ci abbiamo in piedi, tre, quattro festival. Bene, allora non bruciamo assolutamente nulla, ne parliamo sicuramente prossimamente. Il tempo a nostra disposizione è terminato, io ringrazio tutti i nostri telespettatori per averci seguito e vi ricordo l'appuntamento tra poco con il telegiornale dell'Arto Lazio. Buona serata. Buona serata. Buona serata. Buona serata. Buona serata. Buona serata.